Ciao Bibiofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi video specialissimo perché oggi è il 29 gennaio e questo significa una cosa sola. Finalmente esce il videogioco di Kingdom Hearts 3. Dopo tantissimi, tantissimi, troppi anni, finalmente potremo tornare a giocare un nuovo capitolo di questa saga di videogiochi meravigliosa. Prima cosa vi dico che questo video in collaborazione con Patrick di Last Blue e Chantal di Fairy Widow Bitfit, altri super mega fan, soprattutto Chantal, del videogioco e di Kingdom Hearts. Tutti noi aspettavamo questo giorno, tutti noi non vedevamo l'ora e abbiamo pensato per celebrare finalmente l'uscita di questo videogioco di portarvi qui sui nostri canali un book tag dedicato a Kingdom Hearts che però sarà legato anche in qualche modo ai libri e ovviamente un giveaway per voi. Indosso una maglietta di Kingdom Hearts con suore dei colori meravigliosi e il simbolo di Kingdom Hearts della Pampling perché alla fine del book tag vi dirò quale è il premio per voi come giveaway e quali sono le regole da seguire anche se, come al solito, sarà tutto scritto nell'info box. Quindi se non volete leggere l'info box e non volete spoiler, alla fine del book tag vi dirò cosa potrete vincere e come partecipando al giveaway che io, Patrick e Chantal abbiamo pensato per voi ma direi di iniziare col book tag e cominciamo un po' a celebrare questo giorno meraviglioso con l'uscita del gioco. In realtà voi starete vedendo i nostri video, noi staremo aspettando il corriere di Amazon che ci recapiti il gioco perché tutti e tre praticamente l'abbiamo preordinato e poi giocheremo fin quando non lo finiremo e piangeremo perché poi dovremo aspettare chissà quanti altri anni per un nuovo capitolo ma tralasciando questo direi di cominciare con le domande del book tag. Sono cinque domande dedicate a Kingdom Hearts che però appunto si legheranno a delle domande che riguardano i libri. La prima domanda è la cover di Kingdom Hearts preferita, quindi dei vari videogiochi. Ora io qui sarò banalissima, in realtà in tutte le risposte sarò molto molto banale, però la mia cover preferita è proprio quella di Kingdom Hearts 3. Quando è uscita la cover io sono rimasta completamente innamorata dei colori, del fatto che ci sono tutti i personaggi e mi piace da morire, mi suscita veramente tantissime emozioni vedere tutti i personaggi insieme fra cui quelli che più amo e i colori davvero mi fanno impazzire. E legata a questa domanda su Kingdom Hearts c'è una delle cover libresche che ami di più e che ricorda i colori della cover che abbiamo scelto, i colori del videogioco. E io ho pensato subito a Autobiography di Christina Loren perché effettivamente i colori di questa cover che per me è meravigliosa, una di quelle che mi piace di più, ricordano comunque la cover di Kingdom Hearts 3. Quindi una cover che amo tanto di un libro LGBT che mi è piaciuto da morire, che ricorda però anche la cover di Kingdom Hearts 3. La seconda domanda riguardante Kingdom Hearts è il gioco preferito. Ora, io non ho giocato a tutti i gioci, per essere sincera, ma ho giocato per lo più ai giochi che esistevano per la PlayStation 2 perché ho giocato appunto a quelli e di recente ho recuperato la raccolta di giochi uscita per la PS4 e non ho ancora 2.8 perché non ho avuto effettivamente il tempo di finirli tutti di nuovo. Ma il gioco a cui sono più legata perché appunto da piccola l'ho giocato veramente tante tante volte è proprio il primo, quindi Kingdom Hearts, il primo capitolo per la PlayStation 2 che inizia con la storia di Sora, Riku e Kairi. È quella a cui sono più legata, mi piace da morire, mi piace tantissimo giocarci nonostante io odi alcuni boss tipo Clayton e Ursula mio Dio, credo che siano veramente quelli più difficili, io odio tantissimo comunque è un gioco che mi ha emozionato tantissimo fin da quando ero piccola me lo ricordavo ancora di recente, comunque negli ultimi mesi, diciamo in realtà da quest'estate sto rigiocando tutti i giochi e me lo ricordavo abbastanza bene mi ricordavo anche le cose da fare e tutto il resto però è appunto quello a cui sono più legata di tutti è decisamente il primo. E come domanda dedicata ai libri che si ricollega al gioco preferito ci chiediamo qual è il genere di libri che ci piace di più leggere e che leggiamo di più? Risposta scontatissima per me ovviamente è il fantasy ma anche lo young adult in generale che sia fantasy, sci-fi, che sia contemporaneo mi piace tantissimo leggere i libri per i giovani adulti quindi sì, lo sapete che io leggo maggiormente questi generi perché sono i generi che più mi rilassano, più mi piacciono e più mi fanno sognare. Terza domanda dedicata a Kingdom Hearts è il personaggio di Kingdom Hearts che ti piace di più e il personaggio Disney presente nel gioco che ti piace di più allora, come personaggio di Kingdom Hearts sono veramente combattuta anche qui molto banale tra Sora e Riku ma credo che il mio personaggio davvero preferito mettendo da parte la crush incredibile che ho per Riku sia Sora cioè il personaggio che più amo, con cui mi sento più legata diciamo, che mi ha trasmesso più emozioni da quando ero piccola è stato decisamente sempre Sora quindi posso affermare che il mio personaggio preferito più di tutti sia Sora ma subito dopo viene Riku ma anche perché nei confronti di Riku io ho una cotta incredibile da quando ero piccola, da quando ho giocato per la prima volta quindi è un piacere diverso ma il mio personaggio preferito è Sora di Kingdom Hearts dei personaggi Disney in realtà io li amo tutti non saprei scegliere perché ogni volta, soprattutto quando ho giocato per la prima volta che vedevo i miei personaggi Disney preferiti comparire man mano io ero contentissima ad esempio da piccola mi dispiacque di non vedere troppo spesso Ade che poi ovviamente è più presente negli altri giochi però forse quando ero piccola appunto il personaggio Disney che mi piaceva di più vedere nel gioco di Kingdom Hearts nonostante io odi il mondo in cui si trova è Ariel anche perché Ariel è uno dei pochi personaggi Disney che usi veramente comodo quando lo metti in squadra con te è veramente comoda Ariel quindi sì Ariel è decisamente uno dei personaggi Disney che mi piaceva di più ritrovare nel gioco sebbene io odio Atlantica odio Nover Nuotare e odio Ursula e mi perdevo sempre quindi sì Ariel come personaggio ma odiavo il suo mondo come domanda collegata ai libri il personaggio che più ho amato negli ultimi libri o fumetti letti uno degli ultimi libri che ho amato tantissimo e mi è piaciuto tantissimo è stato The Boneless Mercies di cui ho parlato nel wrap up di dicembre se è già uscito comunque ve ne parlerò che è un retelling gender birth di Beowulf ispirato alla cultura e alla mitologia nordica e io ho amato tantissimo in realtà le quattro protagoniste principali appunto The Boneless Mercies perché sono quattro ragazze meravigliose tutte diverse fra di loro con dei sogni diversi ma io mi sono sentita legatissima a ognuna di loro quindi sì personaggi che più mi hanno fatta emozionare ultimamente solitamente le protagoniste di The Boneless Mercies la quarta domanda riguarda il mondo preferito presente nei giochi di Kingdom Hearts in realtà io ce ne ho tantissimi e sono per lo più i mondi Disney non me ne vogliano i mondi originali tutte quelle città il castello i vari castelli radiant garden e tutto il resto crepuscopoli anche molto bello la città di mezzo anche se la città di mezzo ogni tanto mi fa impazzire ma comunque impazzire in senso negativo ma comunque i miei mondi preferiti erano sempre quelli della Disney ad esempio io amavo tantissimo andare nel mondo di Jack Skeletron mi piace da morire anche perché è abbastanza semplice come mondo abbastanza intuibile come ci si deve muovere ma mi piaceva da morire e ovviamente anche quello di Pirati dei Caraibi perché c'era Jack Sparrow c'era Barbossa c'erano tutti e l'ho amato tantissimo sì, questi sono i miei mondi preferiti ma appunto per lo più anche in questo caso amavo vedere tutti i mondi Disney riproposti nel gioco tantissimo e la domanda collegata è il world building che più ti ha fatto sentire parte del mondo stesso ora per non rispondervi sempre con le solite cose Hogwarts o la terra di mezzo c'è un altro mondo meraviglioso di cui ho letto in realtà negli ultimi mesi che mi ha fatto sentire parte del mondo stesso e sto parlando del mondo di Strange Dreamer di Laini Taylor il sognatore perché io ho amato tanto sentirmi parte di pianto e sentirmi parte della feccia degli dei di quei figli di dei quindi semi dei mezzi sangue mezzo sangue che appunto stanno vivendo questa vita un po' sacrificata mi sono proprio sentita parte di loro quindi è stato bellissimo come nel mondo meraviglioso creato da Laini Taylor appunto sentirsi parte dello stesso mi è accaduto raramente ovviamente ripeto quelli a cui sono più legata sono sempre Hogwarts e la terra di mezzo ma devo dire che anche Laini Taylor è stata bravissima ma così come lei anche Victoria Schwab o Libard Dugo o Marissa Mayer sono molto brave a farmi sentire parte integrante dei mondi che loro hanno creato quinta e ultima domanda dedicata prima Kingdom Hearts è la frase preferita e qui sarò banalissima perché la frase che mi piace di più è May your heart be your guiding key che è quella che conosciamo tutti quella più banale ripeto ma è quella che più appunto mi è entrata nel cuore fin da quando ero piccola quindi sì questa è la mia frase preferita di Kingdom Hearts sebbene ce ne siano veramente tantissime meravigliose sempre dedicate a luce oscurità bellissime però questa devo dire che è la mia preferita ed infine l'ultima domanda dedicata ai libri la frase preferita di uno degli ultimi libri che hai letto io ultimamente ho letto The Wicked King e ci sono veramente tantissime frase che mi sono piaciute da morire di Holly Black sia un po' divertenti sia effettivamente che mi hanno dato delle diverse sensazioni rispetto al divertimento come ad esempio mi è piaciuto sempre leggere in questo libro della relazione fra Jude e Madoc chi ha letto Il principe crudele sa di chi sto parlando è una frase dedicata al loro rapporto in realtà più due ma comunque due insegnamenti che diciamo le dice Madoc nei confronti di Jude appunto è Il dolore ti rende forte Madoc mi ha detto una volta facendomi alzare sempre e ancora la spada devi abituarti alla sua pesantezza al peso della spada e poi il potere è molto più facile da conquistare rispetto che a conservarlo ed è una frase importantissima che riguarda il libro e io ripeto ho amato tantissimo la relazione fra Madoc e Jude e poi vi dico l'ultima frase che riguarda invece il rapporto fra Jude e Cardan che mi fa morire dove Cardan si rivolge a Jude e dice per un momento mi sono domandato se non eri tu a lanciare dei dardi contro di me e cosa ti ha fatto pensare che non fossi io alla fine mi hanno mancato io li amo comunque questa l'ultima domanda dedicata ai libri e quindi sono finite anche le domande dedicate a Kingdom Hearts per celebrare questo giorno meraviglioso in cui probabilmente noi staremo appunto ripeto già aspettando il corriere o già giocando a Kingdom Hearts chi lo sa non ci posso credere perché io sto registrando questo video molto prima e voi lo vedrete appunto il 29 e chissà effettivamente cosa starò facendo ma arriviamo alla cosa che più ovviamente vi interessava ovvero il giveaway io Patrick e Chantal insieme a Pampling abbiamo deciso di proporvi questo video con un giveaway per voi per poter vincere una maglietta della Pampling ispirata a Kingdom Hearts e oltre questa ce ne sono veramente altre meravigliose dedicate al gioco con ovviamente le spese di spedizioni gratis dovete semplicemente seguire poche e semplici regole che troverete anche nell'info box cosa bisogna fare ovviamente essere iscritti ai nostri canali youtube che vi lascerò qui sotto seguirci su instagram e seguire ovviamente anche Pampling sia su youtube sia su instagram vi lascio tutti i link utili qui sotto nell'info box ultima cosa che dovete fare è commentare ma non allo stesso modo ovvero dovete commentare i video dicendoci sotto al video di Chantal qual è il vostro personaggio preferito originale di Kingdom Hearts quindi Sora Riku Kairi e compagnia bella sotto al video di Patrick invece dovete rispondere a qual è il vostro mondo preferito in Kingdom Hearts e sotto al mio video quindi qui sotto dovete scrivermi qual è il vostro personaggio Disney preferito comparso nel videogioco quindi riprendiamo un po' le domande che abbiamo a cui abbiamo risposto anche noi però appunto magari anche se non avete giocato mai a Kingdom Hearts potete rispondere conoscendo quantomeno i tre personaggi principali i mondi presenti e i personaggi Disney presenti quindi dovete rispondere a queste domande sotto i nostri tre video avete una settimana di tempo quindi 5 febbraio terminerà il giveaway il tempo per partecipare al giveaway e dopodichè vi annunceremo quando faremo l'estrazione random in una live su YouTube noi tre per annunciare il vincitore della maglietta tema Kingdom Hearts e la pampling quindi speriamo che questo giveaway vi piaccia speriamo che questo book tag vi piaccia fateci sapere se anche voi avete preordinato il gioco cosa ne pensate di Kingdom Hearts cosa ne pensate di tutto quello che abbiamo diciamo pensato per voi per celebrare l'uscita del gioco e niente spero che il video vi sia piaciuto vi lascio ovviamente tutto quello che ho detto fino a questo momento qui sotto nell'info box per quanto riguarda il giveaway andate ovviamente a vedere anche il video di Patrick e Chantal e rispondere alle domande per partecipare al giveaway seguite tutte le regole e potrete vincere la maglietta di Kingdom Hearts della pampling fateci sapere un po' cosa ne pensate spero che il video vi sia piaciuto qui sotto nell'info box ovviamente anche tutti i link dei miei social come già sapete e niente andiamo tutti a giocare a Kingdom Hearts adesso noi ci vediamo al prossimo video ciao